Sappiamo che anche tu hai fatto il liceo classico come noi, noi siamo io al quarto e lì al quinto anno e questa scelta di studi ha inciso sul tuo percorso lavorativo? Allora, sì, sicuramente, perché io al liceo avevo due grandi professori di latino e greco e italiano che mi hanno fatto amare la letteratura, l'analisi della letteratura, quindi tutto lo studio dei personaggi, ovviamente avevo già una passione prima, però lo studio del liceo classico ha anche influenzato il modo di studiare e di analizzare i miei personaggi. Qual è stata la scena più difficile da girare dal punto di vista emotivo? Sicuramente tutte le scene dell'ospedale, quelle della sparatoria di Edoardo, quelle sono state complicate anche perché sono state girate in due giorni, quindi una dietro l'altra, senza un ordine cronologico, quindi tu non sapevi se la donazione c'era già stata, se non c'era già stata, era molto caotica come situazione, come sempre, e poi c'era un tornado di emozioni che le stoppavi, le riprendevi, le ristoppavi, poi mangiavi, poi tornavi sul setto, quindi sono state veramente, veramente complicate e poi quando sentivi buona scena chiusa era un rilascio generale. Quale tra tutti i personaggi che hai interpretato, non solo quello di Carmela, ti ha trasmesso più emozioni e ti ha lasciato proprio un segno? Ma un personaggio teatrale in realtà, perché gli altri due che ho conosciuto a cinema sono entrambi molto simili a me, quindi mi hanno lasciato un pezzetto in più di Giovanna, ma in realtà un personaggio teatrale dove io ero la Madonna, ma una Madonna profana, una Madonna che ancora non aveva incontrato e abbracciato lo Spirito Santo e quindi era spaventata da questa gravità. Io sono a mamma ricreatura, cioè in generale ogni cosa che faccio sono sempre incinta o un bambino, non lo so, sarà un augurio quindi, però era una Madonna profana che aveva paura di questa gravidanza, del giudizio delle persone e di come doverlo spiegare a suo marito Giuseppe. Quel personaggio è stato bellissimo, abbiamo fatto soltanto sei repliche di quello spettacolo e mi è rimasto veramente nel cuore. In base al contesto sociale in cui sviluppa il personaggio di Carmela, quando è stato per te difficile interpretarla e medesimarti? È stato difficilissimo perché io non so parlare il napoletano, cioè lo so parlare ma non come lo doveva parlare Carmela, quindi un napoletano molto più sporco, molto più impastato, diciamo che l'ho resa un po' più borghese. Ho cercato di metterci, di sporcarla quanto più possibile, però era un contesto che io avevo conosciuto, nel senso che io vengo da una Napoli Bene, la Napoli Chiattilla, però ero stata comunque nell'IPM di Nisida, avevo incontrato quei ragazzi che mi avevano descritto le loro fidanzate, quindi io per riflesso ho immaginato, sono entrata nei bassi napoletani, poi lavorando nel quartiere sanità avevo materiale su cui lavorare.